cascata di 15 metri con discesa fortissima parte alessio pastorello la corda mo, sganciati com'è stato? è troppo figo vero? adesso scende lui, ma lui non si bagna, adesso voglio capire da dove scende questo è il panorama ci sarà qualcuno, si, mi sembra di prenderlo in pieno questa no no no, no no, è figissimo hai fatto clic e poi hai girato scusami mamma mia, mi sono inspeccata tutto mi sembra che ci vai proprio si è spenta da sola, o no sta continuando ad andare quindi? ha provato mi ha provato? lui scende senza bagnarsi perché ha detto che dice che ha detto che si rompe le palle a bagnarsi tanto anch'io mi sento fatta comunque guarda che bella che so vabbè, non mi importa diciamo che Miss Italia lo lasciamo per un altro giorno ma siamo più fighi così ciao 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 Grazie a tutti.